Grazie. E veniamo dagli Stati Uniti, Canada, dalla Svizzera, da Luxemburgo e dalla Nuova Zelanda. E naturalmente non viviamo tutti nello stesso posto e ci siamo riuniti per fare questo tour. E infatti il gruppo che vedete qua ha cantato insieme soltanto per quattro giorni. Quattordici giorni. Ma comunque nel modo in cui li sentirete cantare vi sembrerà che hanno cantato per quindici giorni. We have many very fine solos with the group, including the very well-known country and western singer, Mr. Dan Seals. Nel gruppo abbiamo molti solisti famosi, tra cui anche il famosissimo cantante country Dan Seals. Potete capire chi è perché ha un grande cappello da cowboy. In a bombed out room in Belfast Il gruppo è un bambino di Belfast Il gruppo è un bambino di Belfast Grazie a tutti 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 Grazie a tutti